Cambiamo argomento, veniamo al caso di cui si discute, discutono tutti i giornali, l'opinione pubblica, quello dell'uomo che ha sparato uccidendolo, colpendolo al cuore ad un ladro. Un caso simile era avvenuto qualche anno fa nel Catanese a Punta Lazio, un uomo aveva ucciso sparandogli il ladro che era entrato nella sua proprietà. Domani è attesa la sentenza, la procura per lui ha chiesto una condanna a 21 anni per omicidio volontario. Fu legittima difesa oppure ci fu un eccesso colposo nell'utilizzo delle armi e dunque un reato più grave nell'omicidio di Roberto Grasso di 27 anni morto all'ospedale Cannizzaro dopo alcuni giorni di aconia, dopo essere stato colpito da un proiettile sparato da un anziano agricoltore a 71enne che sorprese il ladro in un suo fondo di Punta Lazio a Mascali. Domani sarà alla corte d'assise di Catania a pronunciare il verdetto finale nel processo di primo grado. La storia dell'agricoltore di Punta Lazio che si è macchiato di omicidio per certi versi assomiglia molto a quello del pensionato di Vaprio d'Adda a Milano che ha fatto fuoco contro il ladro che si era introdotto per derubarlo nella sua stanza da letto dopo aver subito diverse rapine. Un fatto grave che ha comunque diviso l'opinione pubblica e che con forza si è schierata a fianco dell'uomo accusato di omicidio nel rivendicare una sicurezza che in molte parti delle metropoli oramai è sempre più precaria. Anche Giuseppe Caruso di Punta Lazio era esasperato per avere subito diverse visite indesiderate nella sua casa di campagna da parte di malviventi e anche lui come l'imprenditore in pensione di Milano si era munito di una pistola per difendersi. Domani dunque la sentenza della corte d'assise, la procura nel processo a Giuseppe Caruso si è spinta sino in fondo ipotizzando così come gli inquirenti milanesi il reato di omicidio volontario tanto che il PM ha chiesto una condanna a 21 anni. A difesa sostenuta dall'avvocato Peppino Lipera invece, così come chiede a gran voce l'opinione pubblica invoca l'assoluzione per legittima difesa. Recentemente la legge su legittima difesa è cambiata, nel 2013 non era in vigore ma in tanti adesso sono dalla parte delle vittime che impugnano una pistola per garantire la sicurezza della propria abitazione e dei propri beni.